Buongiorno a tutti, benvenuti e buon inizio settimana. Siete con FanoTV sul canale 17 dove tutte le mattine da lunedì al sabato alle 7.30 in diretta c'è la rassegna stampa. Tra poco vedremo i giornali con tanto sport ma c'è anche molta, moltissima cronaca questa mattina sui quotidiani della provincia di Peso Rubino, il resto del canale del Corriere Adriatico. Cominciamo dal santo di oggi, la chiesa cattolica oggi ricorda San Martino di Braga ma per chi andrà a messa per esempio durante la giornata oggi c'è la solennità di San Giuseppe perché come si sa quando è quaresima, la quaresima ha la precedenza sulle solennità. Quindi oggi si festeggia, si celebra San Giuseppe il padre puttativo di Gesù. Allora andiamo sul sole sorto alle 6.12, tramonterà le 18.19, andiamo a vedere subito il tempo. Oggi è lunedì 20 con cielo sereno parzialmente nuvoloso, avremo temperature stazionari e lieve diminuzione nei valori massimi. Domani martedì 21 marzo, domani ufficialmente il calendario ci indica che comincia la primavera, avremo cielo parzialmente nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo. Tempo stabile ancora per i prossimi giorni, forse mercoledì ci sarà qualche goccia di pioggia sparsa sulla regione, ma poca roba. Diciamo la cronaca. Cominciamo allora subito dai quotidiani, andiamo a vedere la pagina della Valle del Cesano del Corriere Adriatico. La morte muore carbonizzato nell'auto sotto gli occhi della figlioletta, un SUV, un'auto si ribalta e prende fuoco, manager intrappolato, la 14enne si salva e dà l'allarme. La vittima è Vittorio Mallucci, 56 anni, di Corinaldo, con la passione del fuoristrada. Ecco la Land Rover divorata dalle fiamme a Contrada Caudino di Arcevia, mentre qua sopra in alto invece la vittima, ecco la foto di Vittorio, lo schianto contro un muretto, poi il rogo, le fiamme si sono sviluppate da prima, prima nell'abitacolo. E sotto la testimonianza di chi ha soccorso, come Marco Biducci nel riquadro, il soccorritore che ha soccorso appunto l'uomo intrappolato nella macchina, l'uomo che ha chiesto, ha chiesto alla figlioletta, alla figlia di 14 anni, di liberarlo, lei che a un certo punto disperata corre tra i campi alla ricerca di qualcuno che potesse darle una mano. C'è riuscita, dopo una corsa a perdifiato appunto verso quelle case dove si sperava di trovare aiuto, qualche aiuto è arrivato, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, in effetti l'auto già ha preso fuoco e non c'era rimasto più nulla. E c'è il racconto, il racconto di tutto quello che è, quella che è stata la giornata terribile di ieri, ieri è successo tutto intorno alle 15.30. Andiamo a vedere la pagina anche del resto del Carlino, eccola qua. Manager di una ditta fanese muore carbonizzato perché la vittima appunto lavorava come dirigente alla RGB fotoceramiche ed è morto ieri pomeriggio in seguito a questo incidente stradale lungo una stradina di campagna di Sassoferrato. Salva miracolosamente la figlia di 14 anni che ha dato l'allarme dopo aver visto il padre sparire tra le fiamme che avevano avvolto l'auto cappottata. Questa è la pagina di cronaca del resto del Carlino. Muore 42 anni, probabile encefalite, smentita un'ipotesi di meningite, ricoverato per due mesi, sabato mattina in coincidenza con la tragica morte di un pesarese di 42 anni, da mesi ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pesaro, tra gli amici e i conoscenti si era sparsa la voce di un decesso collegato ad un sospetto di meningite. Però ecco i medici confermano, probabile comunque che sia un encefalite. Sulle pagine del resto del Carlino la prima pagina è per i militari, militari che negli anni scorsi abbiamo visto più volte nell'operazione Strade Sicure. Ebbene Pesaro, questa è la notizia, Pesaro ha rinunciato alla loro presenza con l'operazione Strade Sicure. Scelta giusta, si domanda il resto del Carlino, dunque a Pesaro niente militari. Questa è la pagina principale, e dentro appunto, dentro a pagina 3, soldati di pattuglia, nessuno li chiama, fino al 2015 sono stati impegnati per le strade di Pesaro, i militari del 28esimo Pavia, poi più nulla, ma l'assessore Luca Bartolucci non li esclude per l'estate e valuteremo con il prefetto. Molti cittadini sono in gruppi di WhatsApp per controllare a modo loro i quartieri. A Treponti invece, Treponti di Pesaro cammina sul ciglio della strada, coppia travolta, l'incidente ieri mattina alle 10.28, grave un pensionato, altro scontro davanti alla Pica. Queste sono le notizie di cronaca, sempre sul quotidiano il resto del Carlino, vedete la carambola, l'incidente della notte scorsa sull'Urbinate davanti alla Pica. Poi c'è lo sport, c'è lo sport sul resto del carico che andiamo a leggere, perché? Perché sono due pagine che riguardano la Lega Pro e in particolare l'impresa, l'impresa al Tardini di Parma dove l'Alma Juventus Fano ha vinto per 1-0. Fioretti trasforma su rigore, tre punti d'oro davvero per i Granata, un team pragmatico sconfigge una corazzata di questo campionato. Dunque il Fano batte il Parma 1-0 su rigore, due dicevole pagine che troverete sul resto del carico di questa mattina. Stasera vi faremo vedere l'immagine naturalmente del gol nel telegiornale Occhio alla Notizia. Allora andiamo sulla pagina invece adesso del Corriere Adriatico, perché in apertura il Corriere dell'edizione di Pesero pubblica la notizia che i matrimoni civili vanno alla grande mentre quelli religiosi non vanno più di moda. L'altare non va più di moda, picco negativo per la Chiesa. Noi non facciamo marketing, dicono record di divorzi, bastano 16 euro. E questa è la pagina invece, la fotografia dell'impresa del Fano. Parma è spugnata, i Granatia violano il Tardini, grazie ad un rigore di Fioretti. Salvezza più vicina, ma insomma l'allenatore dice attenzione, fermi tutti, non è ancora il momento di gridare e esultare. Per la salvezza c'è ancora tempo. Vuella ancora invece sconfitta in casa, esulta Reggio Emilia. Stiamo parlando evidentemente del basket. Allora due pagine dicevamo sul Corriere Adriatico, eccolo qua, che riguardano i matrimoni. Matrimoni, rivoluzione civile, altare di meno e più vecchi. Picco di unioni in comune, Chiesa mai così in basso. La curia, noi non facciamo marketing, serve consapevolezza. Nell'Arcidiocesi di Pesero, i sì lo voglio, sono passati da 298 del 2010 a 185 del 2016. Con un record negativo. Poi divorzi, boom in tribunale, dirsi addio costa soltanto 16 euro. Dal 2015 sono possibili separazioni rapide all'anagrafe. Dal 2005 ad oggi solo quattro coppie pesaresi hanno ricevuto l'annullamento della Sacra Rota. E poi la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Danni indiretti del terremoto al turismo, l'appello di rapa per l'intera provincia. Solo il pesarese è rimasto escluso nelle marche dal decreto del governo rivisto alla Camera. Per la paura del sisma il settore registra un calo di presenze, di prenotazioni e di conferme per quanto riguarda appunto la presenza in città. Trovata una nuova linfa finanziaria per completare l'asilo e le mura, siamo a Cartoceto, ottenuta l'autorizzazione per ricorrere ad un mutuo e all'avanzo di amministrazione. Quindi senza uscire dal patto di stabilità. Al via la pulizia dei monumenti, contro l'azione degli imbrattatori, il Comune ha incaricato di nuovo l'associazione Regresso Arti di Calcinelli. E poi ancora da Senigallia terra e detriti sulla spiaggia, ruspe in azione per fare pulizia. Operatori arrabbiati con la provincia temono anche un aumento della Tari. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, dunque per quei turisti speriamo molti e non pochi che verranno comunque a fare un giro magari o a vedere le nostre spiagge o il nostro litorale, insomma, speriamo che ci sia questa pulizia fatta in tempo. L'addio a Daniele invece, sempre da Senigallia, stroncata da un infarto, muore durante la cena sotto gli occhi del marito, inutili i soccorsi. Successo sabato sera intorno alle 22 nella sua casa, frazione Costa. Subito dopo aver cenato con suo marito, purtroppo si è sentita male e non c'è stato nulla da fare. Questa è la cronaca da Senigallia. Da Pesaro invece andavano a Messa, una coppia di anziani è stata travolta da un'auto, l'impatto in via Acquabona, subito dopo il sottopasso. Il marito è stato portato con l'elicottero a Torrette di Ancona. È successo ieri mattina una coppia di anziani che sono stati investiti a Tre Ponti, a Pesaro, lungo via dell'Acquabona, fra la frazione, fra la zona di Cattabrighe, e l'abitato di, appunto, Tre Ponti. Tutto è successo intorno alle 10.30 di ieri mattina. Mi pare che possiamo fermarci qui. Non c'è altro. Non c'è altro. Allora, ci fermiamo qui. La rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30. Noi invece stasera ci vediamo alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo che a questo numero che vedete in sovraimpressione potete inviarle le vostre segnalazioni, foto, video e quant'altro attraverso l'applicazione Whatsapp. È tutto, grazie per averci seguito. Buona giornata e a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.